Allora, illustrissimo, magnificissimo, magistrissimo, critico di Avanti Tutti, sono una vostra fedele ammiratrice, io vi seguo, vi stimo e vi adoro come la pappa col pomodoro. Mi chiamo Giovanna, sono una casalinga, sono alta un metro e trenta e peso 95 chilogrammi. Da sempre appassionata del cinema neorealista, di De Siga, di Visconti, chiedo a voi che tutto sapete dell'arte in generale, se potete consigliarmi un film adatto a me. Quindi, serva vostra, Giovanna. Eh, cara Giovanna, mi sobbiene, ora ora un film da poterti consigliare, ma che dico film, che dico, dico, i buffi, i buffi, un metro e trenta per 95 chili, fai schifo, immonda, insulsa. Non puoi fare così, ma come ti permetti? Ma una tua ammiratrice, una persona, ma chi chi? Guarda, consiglierei, è appena uscito il cofanetto dei buffi, no, non ci sono i DVD. Ma sono cose da parte. Ci sono proprio i buffi, c'è puffetta, grande puffo, puffo quattro occhi. Tu sei perfetto, guarda, io posso dire una cosa, tu sei perfetto per andare a fare reality, dove si merano, si picchiano, si picchiano, le peggio cose, sei perfetto, sei perfetto, sei di una cattiveria. Ma basta, basta, che schifo, siete tutti immondi, basta. Grazie. Vabbè, 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 chiedo scusa. Grazie. Grazie.